Stecche di hashish e dosi di cocaina nelle tasche dei pantaloni arrestato dalla polizia. Nei guai con la giustizia, una 45enne di Arezzo, nella sua abitazione, i poliziotti hanno trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di alta precisione. Nascondeva nelle sue tasche stecche di hashish e dosi di cocaina quando è stato fermato dagli agenti della mobile di Arezzo. I poliziotti lo hanno fermato nell'ambito di un'attività di prevenzione e controllo del territorio, fermando la sua autovettura. Nella serata del 22 gennaio scorso, gli operatori di polizia della squadra volanti, diretta dalla vicequestore aggiunto Marco Gallorini, hanno fermato un'auto in centro ad Arezzo. Vista, come dicono gli agenti, l'estrema agitazione della conducente e lo hanno invitato a mostrare a quel punto il contenuto delle tasche dei pantaloni, i poliziotti hanno così scoperto che nascondeva due stecche in cellofan trasparente contenente hashish con sovraimpresso il marchio di una mela probabilmente utilizzato dai trafficanti per identificare la partita di droga. Oltre a questo, sono stati trovati anche otto involucri in bustine di cellofan termosaldate contenente altrettanti dosi di cocaina. A quel punto, gli investigatori hanno perquisito il veicolo all'interno sui sedili posteriori. Hanno notato uno zaino. Una volta aperto, i poliziotti si sono trovati di fronte a un panetto di circa 100 grammi di hashish ed un contenitore in plastica con all'interno altra cocaina. La perquisizione a questo punto è stata estesa all'abitazione dell'uomo dove i poliziotti hanno scoperto altra droga oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di grande precisione. L'attività di pulizia giudiziaria degli operatori della volante ha portato al sequestro di un totale di 816 grammi di hashish, 77 grammi di marijuana e 6,39 grammi di cocaina purissima. L'uomo, dopo essere stato fotosegnalato, è stato arrestato per detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e così come disposto dalla PM di turno e portato alla casa circondariale di Arezzo. Il GIP ha provveduto intanto alla convalida dell'arresto applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora.